Lunedì o al massimo entro martedì mattina il Collegio di Garanzia del Coni emetterà le sue sentenze sulla Serie B. Mancava solo questo slittamento ma oramai tant'è e se non ci saranno clamorossi colpi di scena tra poche ore calerà il sipario su una nuova pagina triste del calcio italiano. Alcuni rumors parlano di una spaccatura all'interno del Collegio Giudicante tra chi è a favore del ritorno del campionato a 22 squadre e chi per il mantenimento delle attuali 19. Tuttavia il ripristino della formula 22 sempre secondo questi rumors sembra il verdetto più probabile. Questo è un primo essenziale passaggio. Se fosse così si aprirebbe l'altro fronte forse ancora più aspro su chi ripescare. Con la B a 22 sembra praticamente certo il ripescaggio del Siena. La partita più complessa è quella che si gioca tra Catania e Novara da una parte e Ternane e Provercelli dall'altra. Il Novara non era ammesso alla gradatoria del ripescaggio poiché nell'ultimo triennio ha subito penalizzazioni per il lecito amministrativo cioè per il mancato pagamento di stipendi o contributi nei termini prestabiliti. La società piemontese ha fatto ricorso contro la delibera del commissario che fissava questo presupposto ed ha vinto sia in primo grado al TFN sia in appello in Corte federale facendo felice anche la Catania che aveva la stessa posizione. Ternane e Provercelli che potrebbero ambire a quei due posti hanno a loro volta fatto ricorso al CONI chiedendo il ripristino della penalizzazione per il legge d'amministrativo come motivo per escludere le società dai ripescaggi. Il Pescara nel frattempo resta alla finestra come le altre 18 squadre che hanno iniziato la stagione in attesa di capire se il format resterà questo e dunque il calendario inalterato o se ci sarà l'allergamento a 22 il che comporterebbe la riformulazione del calendario e nel caso il Pescara sabato prossimo giocherà a Brescia o la rimodulazione del torneo prenderà corpo dalla quarta giornata quando il Pino sulla carta dovrebbe ricevere il Foggia all'Adriatico Cornacchia. Intanto la settimana di lavoro dei Biancazzurri si è chiusa in anticipo poiché è stata annullata la partitella in famiglia prevista per questa mattina. La squadra riprenderà a lavorare da lunedì. Il tecnico Pilon spera di recuperare Fiorillo, Canute e Crecco mentre dovrà rinunciare a Balzano per la trasferta di Brescia. Torneranno subito a disposizione Melegoni e Capone reduci dalla vittoria in Polonia con l'Under 20 mentre a metà settimana rientreranno memusciai e castrati. Ieri pomeriggio si è poi consumato il Parti Biancazzurro alla presenza di staff, calciatori, dirigenti, sponsor, ragazzi del settore giovanile e genitori. Una conviviale cui hanno partecipato circa 1200 persone nella quale il presidente Daniele Sebastiani ha lanciato i Pescara Bond ovvero una forma di prestito obbligazionario che i tifosi potranno sottoscrivere per poter raccogliere una somma da destinare a lavori di miglioramento sulla struttura del poggio oramai ribattezzata Delfino Training Center